Bentornato! Nel precedente video ti ho illustrato i tre stili comunicativi e da quali motivazioni sono mosse. In questo video vorrei illustrarti alcuni elementi importanti che caratterizzano le nostre comunicazioni. In particolar modo ci soffermeremo sul tono di voce e sulla postura. Chi ha un atteggiamento aggressivo tende ad avere un tono di voce abbastanza elevato e spesso ad una postura eretta e rigida. Alcune volte vi è la volontà di guardare l'interlocutore dall'alto verso il basso. Non è raro che le persone aggressive vogliono sfidare l'interlocutore con il proprio sguardo. Chi ha un atteggiamento passivo invece tende ad avere un tono di voce basso. Alcune volte le persone tendono a sussurrare. La postura molto spesso sembra quasi mostrare il desiderio di rimpicciolirsi rispetto agli altri. Le spalle tendono ad essere piegate verso l'interno e la persona sembra quasi chiudersi a guscio. La persona passiva cerca di evitare il contatto oculare. Infine le persone assertive hanno un tono di voce chiaro, moderato, né troppo alto, neppure un bisbiglio. Le spalle sono aperte e non cadenti. Lo sguardo è diretto verso l'interlocutore. Non vogliono sfidare gli altri ma entrarci in contatto. Una strategia utile che possiamo utilizzare per capire come ci presentiamo agli altri è quella di guardarci allo specchio. Poniti davanti ad uno specchio e osserva le tue spalle, il tuo petto. Se ti accorgi di essere chiuso in te stesso, prova ad aprire le spalle e il petto. Puoi anche provare a modulare il tuo tono di voce, a sentirlo chiaro. Imparare una nuova postura e dei nuovi atteggiamenti può sembrare difficile e all'inizio appare il naturale. Non demordere. Con il tempo diverrà tutto più naturale e spontaneo. Nei prossimi video ti insegnerò come fare una richiesta e come interrompere una conversazione indesiderata. Se non vuoi perderti le prossime lezioni iscriviti al mio canale YouTube.